CGL Rome e Lazio ha deciso di dare una risposta alla crisi. Quest'anno a tutti gli iscritti e pensionati con un reddito fino a 13 mila euro, la compilazione del modello 730 sarà a carico nostro. È un investimento importante, è un investimento molto oneroso, ma abbiamo deciso di star vicino alla gente che in questi anni ha sofferto la crisi. Ti togliamo un peso, lo abbiamo deciso, vogliamo esservi vicino, recatevi al nostro sportello caffè, troverete competenza, qualità e un sostegno concreto alla vostra vita.